Chiamate i succorsi! Chiamate i succorsi! Andiamo anche noi, Krillin! Gohan, mi dispiace, ma temo proprio che questa volta la battaglia non faccia per noi. Non siamo abbastanza forti. Forse, però non è detto che si debba anche rinunciare a dare una mano. Non so tu, ma io... Gohan! Tu non ti muovi! Domani inizia il corso estivo e io ho già pagato la retta per tutto il mese. Ma, ma... Mi avevi promesso che avresti studiato anche durante le vacanze, o mi sbaglio? Mamma, tra lo studio e la vita di papà, tu che cosa pensi che sia più importante, eh? Fermo! Gohan, torna subito qui! Gohan! Scusa, Kiki, ma sbagli. So quello che prova e non posso dargli torto. Come ti permetti, Krillin? Come ti permetti di mandarlo tutto solo? Va anche tu! Ci vado, ci vado, ci vado! Basta chiedermelo con centina... E allora vai! Apri cura di te! Scrivi quando arrivi! Per tutte le mogli! Sono così! Credo proprio che arriva lo scapolo per tutta la vita!